Tornato qui al centro sportivo di Collecchio, come quando era giovane, Alfonso De Lucia, ciao, bentornato e bentornato anche ai tuoi compagni di squadra. Oggi una delegazione del Monza in visita al Parma, anche nel recente passato c'era stato il Savoglia, se non ricordo male. Tutte le società che hanno un po' di difficoltà trovano una bandiera nel Parma tanto per ricordare quelle che sono le problematiche di tutti. Sì, il Parma è un po' più di blasone a livello mediatico, quindi si sono anche loro stretti intorno a noi, ci danno una mano per far vedere anche la nostra situazione all'esterno, è una situazione molto simile a quella che stanno vivendo adesso i ragazzi del Parma, sperando che qualcuno alla fine di chi comanda dall'altro possa rendersene conto che comunque qualcosa di importante a livello del calcio italiano non va. Voi avete appena girato, credo per il reality di Sky, quindi è proprio un'altra occasione per essere presenti in un modo concreto e far capire alla gente le problematiche. Appunto quali sono le problematiche vostre? Quelle del Parma noi le conosciamo bene, hai noi? Le nostre problematiche forse qualcosina in più rispetto al Parma solo perché le dimensioni sono anche diverse. Noi abbiamo difficoltà partendo anche dalla minima cosa che può essere a livello medico un salvabelle per fare una fasciatura, può essere la presenza di un dottore al campo, può essere la presenza di un fisioterapista in settimana, sono tutte cose che noi non abbiamo, che sono cose basilari in una società di calcio ma che attualmente noi non abbiamo, quindi non ti sto qui a delencare un po' tutta la situazione perché non finiremo neanche per domani, quindi sono tantissime cose che non vanno, noi viviamo in giornata e purtroppo vediamo che la cosa neanche sia giusta o qualcuno ci venga a dare una mano, quindi siamo quasi alla fine del campionato sperando di ottenere questa salvezza più presto possibile e sperando che qualcuno arrivi e salva il mondo. E qualcuno arriverà a salvare il Parma secondo te? Perché lì la situazione è più complessa ancora, perché i numeri credo... Io credo da un'esperienza personale, da quello che posso dire, credo che faccia più comodo prendere il Parma fallito e riportarlo dalla D con meno debiti perché so che i debiti sono altissimi, si aggirano sui 70 milioni di euro, quindi so che anche per un imprenditore arrivare qui e stanziare 70 milioni di euro solo per rifinanziare i debiti credo che sia un po' difficile, però lo spero con il cuore perché poi qua Parma è una piazza che merita, una città che merita, quindi speriamo che tutto si risolva per il meglio. Ci presenti i tuoi compagni? Lui è D'Ambrosio, è grande attaccante, è terzino esterno da estero, nonché fratello e gemello di Danilo dell'Inter, esatto, quindi è quasi famoso come lui, famosissimo, Voi come state vivendo insomma la vostra esperienza? Beh ha detto quasi tutto comunque al forzo, noi siamo arrivati nel mercato di gennaio, nel mercato di riparazione, sappiamo benissimo qual'era la società che c'era prima, poi abbiamo preso la società, siamo arrivati con una società nuova e c'è una serie valente delle premesse che poi non sono stata mantenuta, è vero che anche l'ultimo pagamento del 16 aprile non è stato pagato e quindi le problematiche anziché di diminuire vanno sempre aumentandoci. Sono aumentate. E tu? Io sono qua dall'inizio dell'anno, da luglio, quindi ho vissuto in prima persona tutte le problematiche dall'inizio, con il primo passaggio di proprietà e poi successivamente il passaggio a quella che è la proprietà attuale. I problemi erano iniziati già subito dopo l'estate, dopo la scadenza del pagamento degli stipendi, dopo la prima scadenza e quelle cose sono andate ad aggravarsi. Avete parlato con Lucarelli, immagino, no? Con Lucarelli, Gobbi che sono poi sindacalisti diciamo così del Parma e che di conseguenza sono sindacalisti anche vostri. Giusto? Sì, hanno esposto quali erano i loro problemi anche perché i loro problemi sono comunque più sottosservazioni rispetto ai nostri. E' un periodo mediatico diverso rispetto a quello che è il nostro. Noi abbiamo approfittato la loro situazione per far pronte, per far vedere quali erano, quali sono i nostri problemi. Alfonso, poi però io ti devo tirare un po' le orecchie perché insomma tu eri indirizzato verso una bella carriera, poi insomma sei andato a combinare dei guai come il tuo solito, cioè dovevi evitarlo. Cioè, dai, si voleva fare sicuramente di più, non mi ramarico di niente, sono contento, contentissimo di quello che ho fatto, c'è ancora tempo per fare quindi risopriamo prima questa situazione qua che ci preme e poi dopo vediamo dai. Per quanto riguarda il Parma qualche ricordo di allora? No, erano bei tempi, c'ero anch'io. Ho rivisto anche tanta gente che lavorava all'epoca che c'ero io e ancora qua mi ha fatto molto piacere rivivere questi posti, poi sono stati dieci anni quindi fa sempre una certa emozione. E' un peccato vederla adesso così nel senso che senza una proprietà e senza niente però spero con il cuore che anche loro possano trovare un proprietario e tutto torni alla normalità. Ecco proprio l'ultimissima cosa, tu eri un prodotto appunto del settore giovanile del Parma, è vero, erano altri tempi però anche l'attuale settore giovanile ha sfornato di prodotti interessanti tipo Mauri, tipo Cerri, tanto per dire, ricordiamo che se il Parma dovesse sparire visto che c'è tutta questa voglia di serie D come Domodossola in giro e pochi si danno da fare per la serie B come Bologna, diciamo così. Ricordiamo che il settore giovanile andrebbe a sparire, tu che appunto sei un ragazzo che in questa alla destra diciamo così ci hai passato tanti tanti anni di tempo, cosa ti senti di dire in proposito? Io penso che questa sia la cosa ancora più brutta, nel senso che i ragazzi che poi si trovano senza una squadra se casomai dovesse la società fallire e ripartire dalla D quindi si libererebbero, l'unica cosa che mi sento di dire è comunque di continuare nel loro sogno perché se non è qua che non gli hanno dato l'opportunità per colpa di qualcuno ci sono tanti altri posti dove ancora si fa calcio e dove loro possono crescere e collare il loro sogno ecco di non mollare mai e continuare così. Tra l'altro se la memoria non mi tradisce tu eri andato via perché avevi avuto qualche problemino con Ghiradi o mi ricordo male? Diciamo di sì ma non mi va di parlarne, mi dispiace che il male che abbia fatto poi si è ripercorso sulla società e cioè il Parma e mi dispiace solo per quello poi cioè lui sicuramente se la sta spassando bene e ha lasciato un po' tutti qua così e quella è l'unica cosa che mi dispiace che almeno se la passa male il Parma se la passa male anche tu ma so che non è così però questa è verità. Per il momento va buono grazie mille grazie ragazzi per la visita a presto grazie grazie a te!